Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi faccio questo video in video risposta a due ragazzi che mi hanno scritto sul video di ieri per quanto riguarda le considerazioni della mia pedaliera P2000 in particolare abbiamo il mio caro amico Simuliamo con Christian MG77 che vi consiglio di andare a vedere il suo canale e di iscrivervi, seguitelo perché è una bravissima persona un ragazzo appassionatissimo come noi e mi dice ciao Fabrizio non hai parlato della corsa del freno? effettivamente non ne ho parlato, a me piace un freno morbido e con una corsa abbastanza lunga proprio per fare le frenate progressive e mi chiede com'è la corsa e caro Christian io ti rispondo con il video che vedi dietro di me che metto in loop così si può apprezzare lungo tutto questo video e in più mi dice ho visto Barry Roland e dice che ti segue sempre il grande Christian andate a seguirlo il grande Christian perché merita veramente e poi vediamo a Giovanni Carlo Vagliarelli che mi chiede ma puoi fare un paragone con la tua vecchia pedaliera che capita a Fagiolo perché è la stessa che a lui è una Fanatec V3 una Fanatec V3 che praticamente mi mette un po' in difficoltà a fare un paragone ragazzi perché stiamo parlando di due pedaliere che sono nate in due epoche diverse una V3 che la faceva da padrona come diciamo articolo top di gamma di quando è uscita perché la versione Club Sport di Fanatec è sempre stata uno del top del top per quanto riguarda le linee di accessori per la simulazione che era differenziata poi dalla stessa Fanatec con la linea Elite che è comunque sempre presente in questo momento perché mi mette in difficoltà? proprio perché la V3 è una delle pedaliere che mi ha dato più soddisfazione in questi anni anche se devo dire che il mio passaggio tra la CSL Elite che era una gran bella pedaliera ragazzi stiamo parlando di quelle pedaliere belle, massicce, alte, con i pedali altissimi eccetera che aveva una cella di carico mi pare che era di, non voglio dire cavolo, 50 kg si parla di 50 kg a 90 kg, si parla della possibilità di avere il damper kit su una V3 che vi simula la frenata idraulica quindi un di più che nasce dall'esigenza all'epoca delle persone diceva ma la sensazione bizzarra della V3, cosa avete portato in più rispetto alla V2 la creazione di un kit di damper per indurire e avere una sensazione un po' più dura di questa V3 e sostanzialmente sono quelle le novità e in più ovviamente i rotori piazzati sul freno e sull'acceleratore che però lasciano il tempo che trovano a dire il vero perché non è che danno grandi soddisfazioni o risultati questo tipo di rotore questa è esperienza personale e in più sapendo che non è neanche compatibile con tutti i titoli non è giusto quindi fare un paragone con una pedaliere che è appena uscita questa P2000 che ha un anno forse di vita che ha un concetto, un progetto dietro in cui c'è una struttura per quanto riguarda il freno composta da due elementi che li vedete dietro che vanno a simulare una frenata idraulica con quasi la sensazione di sentire che il disco che sta girando praticamente con la possibilità di avere pluri regolazioni cioè stiamo parlando che a livello di forza leva che fa il pistoncino in base alla posizione dove mettete la prima, seconda, terza o quarto verso l'altro si vede proprio dal disegno che aumenta la forza di resistenza che ha il pedale rispetto alla forza che impiegate con il vostro piede e in più il kit delle doppie molle che vi dà la possibilità di regolare una frenata più progressiva una resistenza prima, dopo eccetera c'è tutta una griglia, una tabella dove potete andare a vedere che cosa fa ogni singolo pezzo quando lo cambia, cioè le molle e un sistema per quanto riguarda l'acceleratore agghiera con la possibilità di poter agire sulla resistenza del vostro acceleratore e anche qui sempre il discorso della resistenza a leva in base alla posizione del pistone che fate e una frizione che poi non ne parlo neanche perché non l'ho manco utilizzata e che è una classica frizione che fa il suo lavoro tranquillamente si può cambiare anche qui la leva in due posizioni e anche la molla se non sbaglio però il fulcro della discussione è il freno in primis e poi l'acceleratore quindi il paragone è completamente diverso perché anche il materiale in se stesso cioè la compattezza che dà questa pedagliare rispetto alla V3 a parte l'ingombro stiamo parlando di una P2000 oggi così paragonata a una V3 e una volta e mezzo a una V3 quindi già questo cioè la piastra prende praticamente tutta la piastra di appoggio della mia TR-163 Chrysler che non è piccola come postazione ragazzi è una bella bestia stiamo parlando di tanto di spessore della piastra stiamo parlando di un peso solo della piastra che è pazzesca stiamo parlando della possibilità di mettere in qualsiasi posizione che volete i pedali stiamo parlando di le piastre dei pedali che sono grossi così ragazzi anzi una cosa pazzesca personalizzabile anche la V3 per carità le piastrine si possono cambiare anche le colorazioni si possono adattare i D-shape in plastica quello che volete però in generale la compattezza la struttura la cella di carico 90 kg per la V3 200 per questa cioè stiamo parlando di due mondi diversi due mondi in tempi diversi e non è corretto cioè non è possibile farlo perché la V3 si difende ancora benissimo però se tu mi chiedi Fabri torneresti indietro ovvio che ti dico di no perché la percezione al pedale è completamente diversa la compattezza la qualità non lo so in generale la visione la V3 è una bella pedaliera da vedere io quando ho visto la V3 testimone c'è il video di quando ho fatto la recensione andate a vederlo vedrete che ero anche più giovane posizionare come si come si vogliono i D-shape addirittura si possono inclinare in funzione dei propri bisogni è più magro e ne parlo con entusiasmo cosa ho trovato cosa mi piace cosa non mi piace eccetera eccetera che il damper kit papi papà e ho fatto anche un tutorial per togliere il cigolio che viene da questa pedaliera qui della della V3 insomma ero molto appassionato di quella ma ha fatto il suo tempo per me 7-8 anni di pedaliera è un progetto che è bellissimo che resta negli degli annali delle pedaliere top dell'epoca che oggi si viene a situare nelle pedaliere medie per il prezzo che comunque 400 e passa euro più il damper kit più il kit per per gli elastomeri rimane lì oggi perché a livello di pedaliere non sono Fanatec non ha evoluto perché gli basta in questo momento sicuramente poi probabilmente faranno un'altra pedaliera si stanno studiando qualcosa Fanatec va molto avanti quindi se mi chiedete a Fabri cosa faccio se hai il budget prendi questa P2000 se non ce l'hai togli la frizione se non hai le esigenze ce l'hai più un penino più cara della V3 però c'è qualcosa che è uscito l'anno scorso e vi consiglierei la stessa cosa se avessi preso una Asetec o un'altra pedaliera anche di un'altra marca perché la tecnologia è oggi più recente normalmente è meglio poi la qualità del prodotto ragazzi non c'è nulla da rire anche se la Fanatec la V3 ragazzi rimane una gran bella pedaliera ci mancherebbe altro ci sono amici miei che l'hanno presa anche recentemente si trovano molto bene io il consiglio che posso dare a Giovanni è sicuramente di andare a provare questa P2000 è la Asetec perché l'Arc Team gliela fanno provare ma il primo step sarebbe mettere il damper kit senza ombra di dubbio cioè io se devo mettere 70 euro avendo una V3 li metterei lì e ti cambia con pedaliera così puoi allungare il brodo e poi passerei a una pedaliera superiore quindi ragazzi questa è la mia opinione paragonare due pedaliere a distanza di tempo con vecchiaia di progetto diverso è complicato va bene ragazzi io ho terminato mi pare di aver risposto bene sia a Cristian che a Giovanni io come al solito vi ringrazio per la vostra fedeltà vi invito a commentare così fare delle domande fare le vostre considerazioni perché è spunto per me anche a rispondervi a fare dei video che amo tantissimo fare i video ragazzi e così riprendiamo anche un po' il canale in mano e sì è colpa mia sono stato un po' latitante diciamo in questi ultimi mesi perché mi fa molto piacere poter interagire con voi e come al solito noi ragazzi ci vediamo prestissimo ma vi ricordo di sempre distruggere il pulsante del pollice in su like per far lavorare l'algoritmo di youtube ci vediamo prestissimo iscrivetevi al canale tanto è gratuito da Fabrizio è tutto ciao